Stiamo promuovendo l'ultimo apparecchio della Forward Pollet, il VK140, un apparecchio che è stato avvenuto in tutto il mercato, ha delle caratteristiche completamente differenti rispetto al modello precedente, per quanto riguarda il peso, molto più leggero, la potenza che è salita e la silenziosità che è diminuita di 1.5. Abbiamo tre velocità di potenza e poi abbiamo fatto dei piccoli accorgimenti, tipo le spazzoline, le rotelline in gomma, abbiamo messo un profumino sopra per far sì che mi rilascia una pallanza da tutto l'ambiente quando mi si rilisa l'apparecchio. Allo stesso tempo mi va a catturare i cattivi odori che rilascia la cucina, in quanto questi due profumini sono di agrumi... sostanze naturali, insomma, limone e quant'altro. Quindi rigeneriamo anche l'aria nell'ambiente col folletto, quello è l'obiettivo che si è dato all'azienda, quello che stiamo dando come informazione a tutti i clienti e a noi, perché è una cosa che attira molte persone, insomma. È il primo anno che partecipate a questa manifestazione? In realtà è il secondo, il primo anno è stata veramente una grossa affluenza, abbiamo fatto un ottimo lavoro e quest'anno magari ci ripetiamo. Cosa prevedete per quest'anno? Ah beh, per quest'anno magari prevediamo un qualcosa in più rispetto all'anno scorso, questo è normale, uno tende sempre a migliorare su quello che è l'obiettivo che si è dato. Come vi sembra in generale questa manifestazione? Ma in generale è una manifestazione che va forte perché propone molte cose diverse rispetto all'altro, magari, delle tradizioni, ecco, dei bordi, quant'altro, un po' attirato dalle persone, è una cosa molto meravigliosa.